Dalla scossa di Magnitudo 6.5 di domenica scorsa continuano a susseguirsi le scosse di terremoto nell'Italia centrale tra le province di Rieti, Perugia, Macerata ed Ascoli Piceno. E con esse si affacciano nuove emergenze, nuove frane e ulteriori crolli ad accumuli dove il sindaco ha ordinato l'evacuazione del territorio. Amatrice resta raggiungibile per chi arriva a Rieti soltanto percorrendo la strada da Campotosto o quella da Borbona in Montereale. In tutta la provincia continuano perciò i sopralluoghi e le ispezioni, due le abitazioni inagibili a Santa Rufina nel comune di Città Ducale, tre quelle evacuate a Magliano in Sabina. A Leonese è stato chiuso il centro storico mentre diversi crolli hanno interessato le frazioni. Crescono gli sfollati anche a Borbona. Non sono mancate nemmeno le demolizioni di emergenza, evacuazioni anche a Casperia mentre a Città Reale gli allevatori chiedono moduli abitativi. Apposta le scosse di terremoto hanno lesionato gli acquedotti rendendo l'acqua non potabile.